Salve, oggi vi porto di nuovo un argomento di meccanica quantistica, però stavolta sarà un video molto breve. Infatti non ho intenzione di fare una trattazione approfondita di alcuni temi concettuali, filosofici, ma solo di approfondire un po' meglio un argomento che ho trattato un po' in maniera superficiale in alcuni video, che è quello del processo di misura. Forse saprete già, se avete sentito parlare di questa cosa, che la misura in meccanica quantistica è una questione molto problematica, dato origine a molti dispute e ancora adesso al centro di molte questioni, e in particolare in un video precedente avevo accennato all'esistenza di due tipi di misura, una che avevo chiamato misura proiettiva, che è quella più nota, che è quella che segue direttamente dall'interpretazione di Born della funzione d'onda, quindi intesa come misura della probabilità, e l'altra invece è una misura protettiva, che in qualche maniera consente, diciamo, una misura che non coinvolge il collasso della funzione d'onda su uno dei suoi autostati, quindi è qualcosa di diverso. E mi è venuta l'idea di fare questo video un po' estemporaneo, diciamo, un po' diverso dal solito e fuori luogo, anzi fuori contesto, diciamo così, perché ho trovato, diciamo cercando tra le mie scartoffe a caso, questi due oggettini, che forse vedrete qua, questi qua sono appunti che ho preso sul retro di alcune tavolette di cioccolato, degli scatole di alcune tavolette di cioccolato, che parlano, cioè riassumono in breve questi due concetti di misura proiettiva e protettiva. Quindi ho rivisto un pochino questi argomenti, ho preparato un po' di materiale, ma sarà veramente un paio di slide, giusto per mostrarvi da dove vengono fuori queste due cose. Allora, per darvi un po' il contesto della questione della misura in meccanica quantistica, ho pensato di riprendere, quindi di richiamare alcuni concetti fondamentali, alcuni principi, che avevo trattato in un altro video precedente, che appunto aveva lo scopo di, per più che altro, di fare un riassunto dei principi fondamentali e poi di affrontare alcune interpretazioni. Qui però questo mi serve solo come introduzione, quindi è necessario sapere che in meccanica quantistica lo stato del sistema fisico è descritto da una funzione d'onda, che è una funzione complessa, che vive in uno spazio di variabili che non è il nostro spazio fisico, quindi è già di per sé un oggetto interessante matematicamente, e questa funzione d'onda è soluzione dell'equazione di Schrödinger, che è un'equazione molto famosa che descrive appunto lo stato del sistema. Questa che ho scritto qui è l'equazione di Schrödinger stazionaria, quindi senza derivata temporale, la forma più generale possiede anche una derivata rispetto al tempo, e la soluzione di questa equazione fornisce la funzione d'onda e gli autostati dell'energia, che sono soluzioni di questa equazione per diversi valori dell'energia. L'operatore che sta a sinistra è l'amiltoniana, o operatore amiltoniano, e ciò in cui differiscono le diverse equazioni di Schrödinger per ogni diverso sistema è nel potenziale, che è questo V, che può essere di diversa forma. Alcuni tra i più comuni sono per esempio il potenziale armonico, o elastico, e il potenziale colombiano, che è quello elettrostatico. Una cosa importante è il fatto che un modo, un metodo risolutivo per l'equazione di Schrödinger, consiste nell'espandere la funzione d'onda ψ in una base di autostati dell'energia, cioè funzioni che risolvono questa equazione per determinati valori dell'energia. E quindi la ψ, la funzione d'onda, si può scrivere come somma, con opportuni coefficienti c con i, di φ con i, cioè moltiplicati φ con i, e questi φ con i saranno gli autostati dell'energia. In generale si può espandere la funzione d'onda in una serie di autostati, di un altro operatore, che può essere uno solo operatore impulso, il momento angolare, o altri ancora. Quindi la possibilità di espandere la funzione d'onda in una serie di autostati è molto utile per risolvere diversi problemi. Adesso, nell'altro video avevo dedicato molto più tempo a mostrare cos'è la funzione d'onda, diverse soluzioni, qui invece mi limito a assumere che questi concetti, bene o male, li abbiate capiti, e veniamo alla questione più importante per quanto riguarda la misura, che è la famosa regola di Born. La regola di Born in qualche maniera lega la teoria, quindi l'aspetto teorico-matematico, all'esperienza, quindi all'aspetto sperimentale, che ha a che fare con le misure. Innanzitutto, anche qui bisogna ricordare alcuni concetti, tra cui il fatto che gli osservabili fisici, che sono quelle quantità che possiamo effettivamente osservare, sono associati a determinati operatori, quindi oggetti matematici, che sono operatori ermitiani, cioè hanno la proprietà di essere ermitiani, che è una cosa un po' complicata, ma è necessaria, diciamo, per lo scopo della teoria. Dopodiché, un osservabile generico, che chiamiamo A, agisce su un sistema fisico, che a questo punto è uno stato quantistico, in questo modo proietta la funzione d'onda psi su uno dei suoi autostati, dove i suoi autostati si riferisce evidentemente all'osservabile A. E quindi si può scrivere in questo modo, quindi in modo analogo a prima, psi è la somma sui di c con i, che sono opportuni coefficienti, per fi con i, dove adesso i fi con i sono però autostati di questo osservabile A, non più dell'energia. Quindi quello che vi ho mostrato prima era un caso particolare, questo è un caso generale. A questo punto, l'esito della misura, e qui sta la regola di Born, o meglio, questo è quello che porta poi alla regola di Born, è il fatto che, appunto, l'esito della misura di questo osservabile è il corrispondente autovalore, cioè tale per cui ha applicato A fi è uguale a lambda per fi, dove lambda è proprio l'autovalore. Quindi questo è un autovalore reale, per le proprietà degli operatori ermitiani, ed è esattamente l'esito della misura, quindi è quello che noi osserviamo sperimentalmente. Dopodiché la regola di Born è questa, cioè la probabilità di questo esito della misura, lambda con i, è il modulo quadro del corrispondente autostato fi con i, ovvero, scritto matematicamente, pi di lambda con i è uguale al modulo quadro di questo oggetto, che è psi, moltiplicato fi con i in questa forma, che significa proiezione di psi su fi con i, il tutto al quadrato. E, data la proiezione che abbiamo effettuato qui, questo è uguale a c con i al quadrato, cioè al quadrato del coefficiente dell'espansione. Veniamo alla questione vera e propria, cioè l'esistenza di diversi tipi di misure in meccanica quantistica. Intanto cominciamo con la misura proiettiva. Come risultava dalla slide precedente, l'azione di un operatore su una funzione d'onda è quello di proiettare la funzione d'onda su uno dei suoi autostati. Questa proiezione è una, come dire, una evoluzione discontinua. Quindi, mentre l'equazione di Schrödinger prevede una evoluzione continua deterministica dello stato del sistema, la proiezione, quindi il collasso della funzione d'onda su uno dei suoi autostati è qualcosa di discontinuo e quindi è qualcosa che è sempre oggetto di questione, cioè è difficile descrivere appunto questo processo, questa transizione. questione. Allora, per capire in come opera una misura proiettiva, si adotta, e qui userò l'approccio seguito nel libro The Meaning of the Wave Function di Shang Gao, che avevo usato come riferimento in uno dei miei video precedenti appunto sul significato della funzione d'onda, e lì appunto in un capitolo si introduce questa questione e si mostra questi passaggi matematici. Allora, si usa un approccio alla von Neumann, perché von Neumann introdusse per la prima volta appunto questo metodo di affrontare la questione, e consiste nel considerare l'interazione, quindi la misura, appunto come un'interazione tra il nostro sistema quantistico in esame, un dispositivo, che sarà il nostro dispositivo di misura, appunto mediata da una miltoniana di interazione. Ora, sia il sistema, sia il dispositivo di misura possiedono un proprio stato, che saranno psi per il sistema, e phi, o phi, probabilmente meglio pronunciarla phi, per il nostro dispositivo di misura. L'ipotesi che si fa, ora in questo caso, sì appunto, si fa un'ipotesi sulla forma della miltoniana di interazione, e si assume fatta così. Quindi, scusate, ho dimenticato, la miltoniana totale sarà data dalla miltoniana del sistema, la miltoniana del dispositivo, più una miltoniana di interazione, che appunto media l'interazione, la misura. E si assume che la miltoniana di interazione sia fatta così. Avrà una parte dipendente dal tempo, che sarà questo gdt, che moltiplica p, che è l'impulso del nostro dispositivo, o meglio, di quello che viene detto all'interno di questa teoria, un puntatore, che è in qualche maniera un oggetto quantistico, che serve al dispositivo per misurare una certa quantità di interesse. E la nostra quantità di interesse qui è a, quindi a di solito è un generico osservabile. Si dice che poi questo gdt, questa funzione, integrata sul nostro tempo di misura, che andrà quindi dal tempo t uguale 0 al tempo tau, fa 1. Questa sarà una specie di normalizzazione. Quindi se uno fa questa, quindi divide la miltoniana in questa forma, e assume che nel processo di misura l'interazione è ciò che domina, quindi domina rispetto alle miltoniane dei due sistemi, allora il sistema al tempo t uguale tau si può scrivere in questo modo, e alla meno ip per a su h tagliato, questo è l'operatore di evoluzione temporale, assumendo, anzi, sì, assumendo che h con i sia maggiore di hs e hd, e dopodiché è stato in qualche maniera integrato nel tempo tra 0 e tau, e g di tau integrato tra 0 e tau fa 1, e quindi è rimasto solo p per a su h tagliato. L'h tagliato a denominatore è una, diciamo così, è una condizione che segue dalla forma dell'equazione di Schrödinger. Dopodiché quest'operatore agisce su ψ e su φ, che è la funzione d'onda del nostro dispositivo di misura, nella posizione x0. Dopodiché, cosa si può fare? Per calcolare l'azione di quest'operatore, che è l'evoluzione temporale, si sviluppa la funzione d'onda ψ su una base di autostati, cioè di autostati dell'operatore A, in modo tale che l'azione di quest'operatore si scrive così, quindi e alla meno ip rimane lo stesso. A diventa a con i, perché poi andrà sommato su i, che poi agisce sulla funzione d'onda ψ, scritta come somme di c con i per a con i, che questi saranno gli autostati dell'operatore A, e poi per φ con 0. A questo punto si vede che uno può far agire questo operatore esponenziale su φ, perché questo esiste, cioè ha lo stesso effetto di un operatore di traslazione. Quindi l'effetto di questo operatore è quello di traslare φ da x0 a x0 più A con i. Il tutto però è sommato su i, perché la serie, diciamo così, la sommatoria è su tutti gli autostati dell'energia, quindi rimane una summa su i. Ora quello che si osserva è che abbiamo l'indice i sia negli autostati della ψ, quindi nel nostro sistema, sia nella φ, che è il dispositivo di misura, o il puntatore che comunque fa le veci, diciamo così, agisce come il dispositivo di misura. Quindi questo ci dice che al seguito di questa operazione il nostro sistema e il dispositivo di misura sono in stato entangled, cioè significa che sono legati in maniera tale che non sono più indipendenti, e questo sembra essere in qualche maniera in contrasto con l'esperienza per cui il dispositivo di misura non dovrebbe interferire con il sistema, e quindi noi potremmo associare, come dire, degli esiti di misura di un certo osservabile alle proprietà del sistema stesso e non al dispositivo di misura. Quindi questo è un'operazione che in qualche maniera cerca di rendere matematicamente rigorosa il processo di interazione tra un dispositivo e un sistema, ma ha la conseguenza spiacevole di mettere i due sistemi in stato entanglement. Quindi questa è una misura che evidentemente non preserva lo stato del sistema, perché il dispositivo e il sistema vengono legati in questa maniera. Quindi è stata inventata quest'altra soluzione, che viene detta misura protettiva. Protettiva, capite bene, significa proprio questo, cioè che si cerca di proteggere, di mantenere, lo stato del sistema in modo tale che non sia più influenzato in qualche maniera dallo stato del dispositivo, cioè dal dispositivo stesso. Infatti alla fine vedremo l'esito di questo operatore di misura è quello di rendere i due sistemi disaccoppiati e di fornire una misura dell'osservabile A che equivale esattamente al valore che aveva prima del processo di misura. Ora, per fare questo viene usata una procedura che viene detta quantum zeno effect, che vorrebbe dire effetto di zenone quantistico, che tradotto detto in parole povere è la stessa cosa che si dice quando si afferma che una pentola che stul fuoco finché tu la guardi non bolle mai. Una pentola sempre guardata non bolle mai. questo nella vita pratica non è un vero riscontro, ma nella meccanica quantistica in verità sì. Infatti l'operazione di misura ripetuta a intervalli di tempo brevi, in successione appunto di intervalli di tempo brevi, impedisce al sistema di fare una transizione, quindi di transire dal suo stato ad un altro. E questo viene usato proprio per fare sì che il sistema mantenga il suo stato prima che venga effettuata la misura. Allora, per questo vengono introdotte due osservabili prima. Un osservabile O di cui psi è autostato. Cosa significa? Che se noi applichiamo O al nostro sistema psi, ci restituirà la psi moltiplicata per il suo autovalore. Ma questo quindi però non cambia il suo stato, perché era già un autostato di O. Però allo stesso tempo, al contempo, si effettua anche un'altra misura di questo osservabile A, di cui psi non è autostato. Quindi in generale l'esito sarà la proiezione di psi su uno dei suoi autostati, e questa è la cosa interessante. Ma questo si fa, allora, la misura dell'operazione, scusate, della misura dell'osservabile A viene fatta a intervalli di tempo molto brevi, T con n, con unice n, che possiamo dividere in modo tale da essere uguale a n piccolo su n grande per tau. Tau è il tempo totale della nostra misura, la durata dell'intervallo di misura, n piccolo è un indice che va da 1 a n, e n grande è il numero totale di operazioni di misura, col risultato che se n grande va a infinito, quindi un numero di misure infinite in un tempo finito, tau, cioè T con n, andrà a 0, quindi avremo tempi infinitamente brevi. Ora qui matematicamente l'implementazione di questa operazione di misura viene fatta introducendo degli operatori di proiezione. Infatti vedrete che qui in questa espressione complicata compaiono delle espressioni del tipo psi, psi, con frecce in un verso e frecce nell'altro, significa che moltiplichiamo il cat, quindi la parte destra di una parentesi, con il suo bra, che è la parte sinistra, e in mezzo ci mettiamo a sandwich l'evoluzione temporale che agisce su ciascuno di questi psi, però calcolato ai diversi tempiti con n. E per fare ciò è stata usata semplicemente la proprietà delle esponenziali, per cui l'esponenziale di una somma è il prodotto delle esponenziali. A questo punto l'introduzione, perché in definitiva avendo separato l'intervallo di misura tra 0 e tau in una successione di n intervallini, è come se avessimo spezzettato l'evoluzione temporale in una somma di operazioni di evoluzione temporale su ciascuno di questi intervalli di misura. Quindi appunto usando la proprietà degli esponenziali possiamo trasformare tutto in un prodotto di esponenziali. A quel punto introducendo questi operatori di proiezione, che sono questa combinazione di psi cat e psi bra, noi possiamo isolare ciascuno dei diversi istanti temporali. A questo punto, e tutto alla fine ovviamente, abbiamo di nuovo lo stato del nostro dispositivo di misura, phi, nella posizione x con 0. A questo punto il quantum zenu effetto, l'effetto zenone quantistico, si osserva se noi mandiamo il numero n di intervallini a infinito, che come ho detto prima equivale a mandare i t con n a 0. Quindi a questo punto la somma, o meglio sì, la somma che si verrebbe a creare qui, su n piccolo che va da 0 a infinito, equivale a un integrale tra 0 e tau di cosa però? Allora noi abbiamo isolato, introducendo questi operatori di proiezione, dei bracket, cioè appunto una parentesi bra e una parentesi cat, con in mezzo l'evoluzione temporale in ciascun intervallo. Integrando tra 0 e tau abbiamo a questo punto la proiezione, o meglio l'elemento di matrice del nostro osservabile A sullo stato psi. Quindi in questa maniera abbiamo ottenuto esattamente la quantità che vogliamo misurare. Il tutto poi andrà integrato tra 0 e tau in g di tau, moltiplicato per p, ma questa parte qui non è dipendente dal tempo, l'integrale tra 0 e tau di g di t fa 1 e questo alla fine si riduce alla nostra psi con questo esponenziale, questa volta anziché avere semplicemente A, ha esponente A il bracket, quindi l'elemento di matrice di A sullo stato psi, il tutto che agisce su phi. Quindi di nuovo, come nel caso precedente, adesso questo esponenziale agisce su phi e agisce come una traslazione, quindi phi viene calcolato nel punto x0 più A, dove con A tra parentesi abbiamo indicato proprio l'elemento di matrice, quindi lo stato, diciamo così, la media statistica di A sullo stato psi. Adesso però non c'è più nessuna somma su I, in qualche maniera il trucco è stato quello di prima dividere i vari intervallini e poi integrare e grazie alle ipotesi che abbiamo fatto siamo arrivati a questa soluzione, che quindi restituisce l'osservabile A misurato su psi, grazie a questo processo, ma non c'è più nessun entanglement, quindi i due stati sono separati e questa viene detta appunto misura protettiva ed è qualcosa che effettivamente si può realizzare in pratica, quindi questa è una soluzione per appunto misurare una quantità dello stato quantistico A in modo tale che sia indipendente dal dispositivo di misura. Questo chiaramente si guarda bene dal porre la parola fine alla questione, ovviamente la questione, il dibattito sul significato della misura e meccanica quantistica, il fatto che comunque la si veda, diciamo così, la transizione implicita, implicata in un processo di misura è qualcosa che, come dire, rompe l'evoluzione temporale deterministica di una appunto della funzione d'onda, secondo l'equazione di Schrodinger, quindi però questo processo di misura, diciamo così, che fa uso di questo strano fenomeno, il quantum zeno effect, sembra in qualche maniera offrire una via d'uscita. Comunque la questione è più complicata e più articolata, infatti nel libro di Dicao, The Meaning of the Wave Function, c'era anche dedicato un tentativo di interpretarla all'interno di un altro contesto, che è quello dei discontinuum random motion, che sono moti random discontinui che risolverebbero, ho detto dell'autore, una serie di problemi legati alla meccanica quantistica, a certe questioni che però non sto così approfondire. Niente, questo video aveva solo lo scopo di offrirvi anche questo altro argomento e non so se poi in seguito parlerò anche di altre questioni più tecniche, più interessanti, ecco, della meccanica quantistica. Per il momento vi saluto e arrivederci al prossimo video.